Elena vieni tu? Bravissima! Ah io faccio la ripresa qui Bravissima! No, no, io faccio la ripresa Ciao! Dove ce l'hai la macchina? No, no, perché io ce l'ho fatto Oh no, no, perché io ce l'ho fatto V-Rència Eui l'hai erre la macchina Oh no H-For этой C'è our V-R hatch Such Con E rit Grazie Grazie Sto registrando Allora Questa qui è una novità Sì, nella zona sì È recente Diciamo, è una cosa nuova Che gestisci tu In che periodo le fai Queste cose? Dall'aprile a ottobre Dall'aprile a ottobre, com'è il giro? Il giro Cosa comprende il giro? È panoramico Di tutto il paese Anche fuori dal paese Quanto dura più o meno? Dura dai 5 ai Mezz'ora Dipende da Il costo per chi lo vuole sapere? Il costo è offerta Questo lo posso pubblicare? Su Facebook E su YouTube Sei d'accordo? Io te lo chiedo perché Va bene, va bene Ok Ok Grazie a tutti Grazie a tutti